buongiorno come va come va io sono claudio sono appena arrivato in ufficio sono le sette di mattina non c'è ancora nessuno tutti gli altri arrivano a blu blu si inizia a lavorare alle nove alle dieci io qualche volta arrivo prima verso le sei verso le sette dipende se devo scrivere arrivo prima ok finita la mia pausa torno a lavorare ciao ciao tu come stai tutto bene tutto a posto